Matteo, prima di tutto un grande piacere, sono un grande stimatore del vostro lavoro, di te anche come persona, come professionista del mondo del vino e non solo. Gratulazioni anche per il secondo premio di Ernest & Young. Questa volta è il premio come imprenditore dell'anno, è stata una grandissima soddisfazione, poi io dico sempre che è il risultato del lavoro di tutta la squadra, quindi abbiamo condiviso con tutta la squadra questo grande onore che ci è toccato. Matteo, qui assieme per conversare avevo piacere insomma di condividere qualche idea, un po' le prospettive del mondo italiano all'estero. Tu sei un grande promotore dell'Italia, del Made in Italy, anche come Presidente di Alta Gamma. Raccontaci come siamo percepiti all'estero e magari dove dobbiamo ancora migliorare per arrivare a nuove frontiere, arrivare a nuovi orizzonti. La buona notizia è che siamo percepiti molto bene perché il mondo è innamorato dell'Italia, lo stile di vita italiano è uno stile di vita che tutto il mondo ci invidia e questo è fondamentale perché anche ad esempio i nostri vini che qui a Vin Italy celebriamo sono ambasciatori dello stile di vita italiano e quindi se tutto il mondo ama questo stile di vita poi ama ancor di più anche i nostri vini. Io penso che ci sono dei valori che i consumatori in tutto il mondo associano a un prodotto Made in Italy, perché un prodotto del Made in Italy è sempre espressione di territori, di tradizioni, di paesaggi, di un saper fare che è legato al territorio, fatto di storia, di cultura. Ecco questa percezione secondo me è forte nei consumatori nel mondo ed è un vantaggio competitivo per il Made in Italy. D'altro canto si può fare ancora tanto di più per promuoverlo e per valorizzarlo. Soprattutto io credo che il nostro sia un paese che deve puntare a un posizionamento di eccellenza. Non saremo mai fra virgolette un luogo di produzione low cost perché ci sono tanti altri luoghi dove è più facile coltivare la vigna in termini di costi o dove ci sono estensioni diverse. Noi dobbiamo puntare all'eccellenza, a produzioni che rappresentano delle eccellenze. E anche nel turismo ad esempio, secondo me il turismo è una leva strategica di sviluppo del Made in Italy perché quando svengono dei visitatori in Italia è lì che si innamora del nostro paese, del Made in Italy, dei nostri cibi, dei nostri vini ma anche della nostra moda. Ecco credo che sul turismo in Italia vada fatto un lavoro per un continuo riposizionamento verso l'alto per attrarre sempre nuovi consumatori di alto profilo con un alto potere di spesa e anche sempre più sofisticati che sappiano apprezzare il nostro paese anche perché il nostro paese è anche tutto sommato abbiamo dei territori fragili e quindi un turismo sostenibile è un turismo che non potrà crescere nei numeri all'infinito quindi dovremmo piuttosto puntare a un continuo innalzamento e un riposizionamento verso l'alto. In tutta questa experience che ci racconti ovviamente i vostri prodotti, le vostre aziende sono fondamentali per regalarci un'esperienza. Andando incontro possibilmente a questi nuovi mondi, queste nuove aperture, come riuscite voi a tenere questo bilancio, questo equilibrio tra qualità e produzione perché entrambe le cose sono importanti? La nostra filosofia è quella per cui siamo cresciuti in 121 anni di storia, siamo costantemente cresciuti ma senza mai scendere a compromessi con la qualità. Questa è la filosofia delle cantine Ferrari dai tempi di Giulio Ferrari è quella stessa cultura che mio nonno ha portato avanti quando acquisì le cantine Ferrari nel 1952 ed è la stessa visione che abbiamo noi oggi come terza generazione della mia famiglia che condividiamo con i nostri manager. Cioè si può e deve crescere ma senza mai scendere a compromessi con la qualità che bisogna quindi partire da uve di eccellenza che oggi per noi è il vincolo oggi maggiore. Per fortuna devo dire che oggi sul mercato la domanda è superiore a quella che è la nostra capacità produttiva, quindi noi siamo in allocazione sulla maggior parte delle nostre etichette, diciamo che è una condizione secondo me bella da avere, ci dispiace non poter assecondare le richieste di tutti i clienti però credo che sia un segno del successo di Ferrari. Penso che in futuro potremo piano piano crescere, continueremo a crescere a ritmi in termini quantitativi ridotti e ripeto senza mai scendere a compromessi con la qualità che significa che dobbiamo andare a piantare nuovi vigneti, a cercare nuovi conferenti di eccellenza. Uno dei trend di lungo periodo che stiamo vedendo è che con il riscaldamento climatico noi riusciamo però ad avere nuovi vigneti a maggiore altitudine in Trentino. Questo è ad esempio una prospettiva interessante perché su nuove aree si può coltivare la vigna addirittura con dei risultati di eccellenza e quindi sì, una crescita anche in termini di dimensione dei nostri vigneti la vediamo su nuove zone a maggiore altitudine in Trentino. A volte si dice che il piccolo è bello, io credo che ci siano delle piccole realtà meravigliose ma credo anche che si possa fare eccellenza in cantine più grandi, anzi spesso avere una grande cantina ti aiuta perché prima di tutto ci si può avere in cantina il talento delle persone, quindi attrarre persone di talento in ology o personale capace che nella parte produttiva si possono avere gli impianti più adeguati e poi nella grande dimensione ci sta anche una maggiore capacità di poter selezionare il vertice qualitativo. Il nostro mondo fra l'altro è un mondo di cuvée dove avere una diversità di uve, una diversità di terreni come ce l'abbiamo noi in Trentino è un grande vantaggio perché è come per un pittore avere più colori per dipingere il proprio quadro. Stiamo assaggiando infatti proprio qui un 2013 perlé che dimostra la longevità, la qualità, la selezione delle uve che grazie proprio alle uve e il vostro metodo di spumantizzazione ci permette di apprezzare questo vino a distanza di 10 anni. Esatto, infatti ti ho servito un perlé il Magnum 2013, l'annata corrente di perlé non è il 2013, questo è un vino che mostra però la capacità di resistere e di vincere la sfida con il tempo di questo Trentodoc. Cioè per me vincere la sfida con il tempo significa mantenere freschezza e eleganza e allo stesso tempo col tempo acquisire complessità. Quindi questa è una bollicina che mantiene a mio avviso ancora un frutto vivo e croccante però il tempo gli ha dato armonia, complessità e sua denza. Questo penso che sia un grande valore aggiunto del Trentodoc come bollicina di montagna e un po' lo stile dei nostri vini, in particolare del nostro Ferrari perlé, ovviamente del nostro Giulio Ferrari o del Ferrari di Servalunelli. Quindi insomma un brindisi. Grazie. Questo è diciamo solo chardonnay di montagna, metodo classico Trentodoc. Ispirati alla bollicina che è sempre molto fast e accompagna momenti molto speciali, celebrativi, importanti, grandi occasioni. Il Ferrari è un grande esempio. Cosa avete imparato stando in pole position dopo adesso due anni di Formula 1 con i vostri prodotti, con il vostro Ferrari? Questo sarà il terzo anno in cui Ferrari è il brindisi ufficiale della Formula 1 e continueremo fino al 2025. Quindi è una partnership che almeno arriverà fino al 2025. Per noi è stata un'esperienza meravigliosa. Anche se poi io ci tengo sempre a dire che le bollicine come Ferrari e Trentodoc sono celebrazione, ma che sono anche un vino da tutto pasto. Però la celebrazione, la celebrazione... Il pasto in sé stesso è una celebrazione. Ah beh, questa è anche una buona osservazione. Ecco, dicevo che la Formula 1 è stata un'esperienza meravigliosa ed è un'esperienza meravigliosa perché così siamo onorati di portare un tocco di stile di vita italiano sul podio. In un mondo come la Formula 1 c'è dove c'è anche tanto made in Italy. Ovviamente la scuderia Ferrari, ma non solo, l'Alfa Romeo, la Pirelli, c'è tanto i freni della Bremo, c'è tanta tecnologia italiana. Noi abbiamo voluto portare un tocco di stile italiano nella convivialità della Formula 1, sul podio ovviamente che ha una grande visibilità, ma anche nell'accoglienza e nell'ospitalità. Per noi è molto importante che il Ferrari è servito in tutte le ospitali di più alto livello durante i Gran Premi. Quindi chi va a vivere un Gran Premio in tutto il mondo può sperimentare i nostri Ferrari Trento Dock e questo ci ha permesso di raggiungere tanti nuovi consumatori che hanno conosciuto i nostri vini. È una vetrina straordinaria che in particolare ci sta dando una forte spinta all'estero e in particolar modo sugli Stati Uniti. Quest'anno ci saranno ben tre Gran Premi degli Stati Uniti. Anche Las Vegas come nuovo? Esatto. Miami, Austin e quest'anno per la prima volta anche Las Vegas che si annuncia come un Gran Premio straordinario. Il rettilineo sarà nella strip e tutti si attendono un Gran Premio veramente unico. Cosa ho imparato dalla Formula 1? La Formula 1 è un tempio di eccellenza. Una cosa che mi ha impressionato è sempre vedere come dietro ogni singola di queste macchine ci sia un team addirittura che arriva quasi a mille persone che ruotano intorno, fra chi le ha costruite, chi le segue, gli ingegneri. Quindi c'è un know-how, un numero di persone, un investimento incredibile, tutto dietro una singola macchina che deve eccellere. Ecco, quindi credo che questo sia il valore dell'eccellenza, sia un valore poi che condividiamo come Ferrari Trento rispetto alla Formula 1. È un mondo poi di passione, di grande passione che ovviamente ha il cuore di chi fa vino. Ce l'hai sicuramente tu come famiglia, visto che sei nato nel vino e ce l'abbiamo tutti noi che abbiamo la fortuna di lavorare in questo settore bellissimo. Quindi eccellenza, passione, sono qualcosa che ho visto, ho sperimentato in Formula 1 e che penso che siano valori importanti per tutti noi. E poi è un mondo, devo dire, di eccellenza a 360 gradi perché è straordinario vedere come questo mondo si sposta da un continente all'altro. Adesso è stato in Australia, si muoverà in un altro continente con una capacità anche organizzativa e logistica che è incredibile. Quindi è un mondo molto particolare e poterlo vivere da dentro, devo dire, è stata una bellissima esperienza. Insomma, loro hanno le macchine, i piloti che si spostano, noi abbiamo le nostre bottiglie elenologi Brand Ambassador che fanno un po' una cosa simile. Matteo, grazie mille per la tua disponibilità, per queste informazioni. Salute e viva il vino italiano. Esatto. Cin cin. Cin cin. Salute.